ciao a tutti nel video di oggi fedex parla di una nuova puntata di muschio selvaggio mentre chiara mostra nuovi arrivi del suo brand disponibile all'acquisto vi lascio al video buona visione attenzione a non superare il limite di velocità amore è mamma mia occhio al vento sì occhio al vento amore speriamo di non beccare un'auto velox si spingendo la mamma amore l'altalena più avvincente di milano siamo tornati con muschio selvaggio con una bella puntata bella una puntata bella tosta ospite cecilia strada abbiamo parlato di salvataggi in mare degli avvenimenti recenti sulla strage di cutro insomma ci sono sono emersi diversi spunti interessanti e vi invito a guardarla perché veramente una puntata intensa ciao guys the new bags are online this is our classic i like bag this one too like that then we have our puffy bag which is pretty awesome so easy to wear too and then we have our new kaya bag this is our kaya mini bag with the logo on the bottom and it has a strap and this is the black version too so cute in serata chiara insieme alla sua famiglia vai in un rinomato ristorante per festeggiare il compleanno di sua sorella francesca get ready with me per andare a cena del compleanno di mia sorella franci e sono stravolta quindi un po zero sbotti del look sono già mezza vestita questa è una tuta di ecopelle e lo sto la sto abbinando con queste che sono nuove sono gazelle di adidas per bucci stupende troppo occhi rossi e neri facili di questo cambio di rossi marinati e funghi trombetta a per chiara abbiamo il risotto primavera con tutte le verdurine e le erbe di primavera sotto per vedere della della scamorza un po filante totalmente pulita con una buona nota aromatica grazie poi abbiamo questa chiacchiera questa cialda questa chiacchiera croccante al prezzemano con una salsa lamatriciana quindi salmone affumicato con rafano e tubicco che sono le uova di pesce volante ciao guys it's been a super long sad day but i'm so excited because you've all been asking about new chiara ferragni makeup and it's coming really soon it's coming on our website in all douglas italy stores douglas spain and douglas portugal so i'm gonna give you more updates very soon